Benvenuti a Claus Condicio, a Luigi Di Maio, esponente dei grillini di punta. Buongiorno Dottor Di Maio. Buongiorno, buongiorno. Allora Dottor Di Maio, questa expo è un po' un vostro cavallo di battaglia, nel senso una chiave ovviamente critica di analisi, eccetera. Un grave colpo al paese ma anche al nord, no? Sicuramente e soprattutto alle imprese e alla produttività, perché quel poco di introito che poteva portare un expo concepito così, a scatola chiusa, in un terreno chiuso, che comunque faceva lavorare principalmente le multinazionali, comunque avrebbe alimentato un indotto, un indotto che adesso è a rischio. Ma la cosa comica è che noi gliel'avevamo detto a questi signori, noi siamo andati lì un mese e mezzo fa, siamo saliti su dei pullman, abbiamo fatto un'ispezione, c'era l'ingegnere sui pullman che ci diceva è tutto a posto, è tutto a posto, noi gli facevamo domande perché avevamo delle perplessità, hanno arrestato l'ingegnere che ci diceva che era tutto a posto. E anche ha un che di ridicolo. Poi c'è un'altra questione, la credibilità internazionale. Quale credibilità internazionale ha l'Italia? Se un Presidente del Consiglio va a garantire per l'Espo, il giorno dopo arrestano praticamente tutti i vertici dell'Espo. Abbiamo anche perso in credibilità, in possibilità economiche, mettiamo a rischio le imprese che avrebbero lavorato con l'Expo, al netto delle multinazionali. Senta, tra gli sponsor dell'Expo ci sono nomi importantissimi, Barilla, Enel, Banca Intesa, che non manca mai, Fiat, Finmeccanica, Regione Emilia Romagna, Tecnogym, eccetera. Essere associati, premesso che questa storia è su tutti i giornali del mondo e non puoi immaginare in che termini, essere associati a un evento così descritto, secondo lei, che impatto ha su questi marchi e cosa dovrebbero fare? Sicuramente alcuni di questi marchi sono dei marchi che verranno danneggiati fortemente, altri sono già un po' danneggiati dagli scandali interni, se penso a Finmeccanica. Il problema è che molto spesso i vertici politici che gestiscono queste operazioni commerciali sono così irresponsabili da non capire qual è la responsabilità che hanno sulle loro spalle. Quello che è successo all'Expo adesso comunque danneggerà aziende come la Barilla che secondo me in ogni caso dovrebbero ribellarsi, dovrebbero chiedere un risarcimento per come è stato gestito, ma soprattutto dovrebbero chiedere un risarcimento ai vertici politici che hanno garantito quest'operazione. C'erano le università di Milano che avevano chiesto di fare un altro modello di Expo, un Expo che non attirasse tutti questi rischi di infiltrazioni, di associazioni per delinquere, ma che facesse un Expo diffuso presso le piccole e medie imprese del territorio che già erano disponibili ad ospitare i vari stand e le varie occasioni di mostre o di assaggi di alimenti e così via. Quindi su questo dal punto di vista pure commerciale della credibilità delle aziende che ci hanno partecipato e anche della credibilità internazionale è un disastro. E le aziende che hanno subito questo danno, secondo me, dovrebbero chiedere un risarcimento. Se lei fosse... Io faccio delle differenze, cioè una cosa è in meccanica, una cosa è Barilla. Barilla, che è un marchio italiano nel mondo, adesso subirà un grosso contracolpo, secondo me. Se lei fosse il CEO di un grosso sponsor, o dice o vengono cacciati tutti e si garantisce una gestione trasparente, o io chiedo i danni e mi ritiro, ho capito bene? Ma certo, certo, assolutamente. Senta, e le leggo un passaggio, perché poi ho buona memoria, le leggo un passaggio che era... In realtà voi avete da sempre denunciato, eccetera, però anche loro erano consapevoli della... Qualcuno era già consapevole della corruzione. Il presidente di Assurel, che è l'associazione dell'agenzia di comunicazione, denunciava già due anni fa un documento ufficiale, che poi alleggiava la sua intervista, a proposito delle gare di comunicazione, dice l'Expo non fa comunicazione, poi nelle gare vincono sempre gli stessi, questo è un documento ufficiale, quindi già alleggiava l'odore di corruzione. Cosa deve fare con questo documento, secondo lei la magistratura? Ma guardi, noi del Movimento stiamo denunciando le irregolarità dell'Expo, non perché avevamo dei presentimenti, ma perché eravamo in contatti con coloro che avevano avuto il coraggio di denunciare dall'inizio. Cioè tutte queste relazioni o queste dichiarazioni, erano delle dichiarazioni che testimoniavano già due anni fa come era dominato l'Expo. E noi abbiamo avuto ragione di questo, perché poi alla fine quello che diceva il nostro consigliere comunale a Milano, Mattia Caligio, i nostri consiglieri regionali di Lombardia, si è rivelato vero. Quello che siamo andati a fare lì, che ci hanno chiamato sciacalli, che mettono a rischio la produttività dell'Expo, mettono a rischio la credibilità internazionale, poi quello che siamo andati a fare lì con l'ispezione, le perplessità che abbiamo detto, alla fine sono rivelate vere. Quindi quello che io posso dirvi è che... Ma questa frase vincono sempre gli stessi, cioè ragazzi vuol dire che già sapevano che c'era qualcosa, questo lo dice un organo ufficiale delle agenzie di comunicazione, e quindi già sapevano che c'era una pastetta, scusi, e quello che voglio dire c'è. Ma infatti non è un caso che comunque adesso poi siano arrivati agli arresti per le irregolarità. Noi lo stiamo denunciando, altri attori lo stanno denunciando, attualmente la vera responsabilità c'erano i vertici politici che hanno garantito questo operativo. Due altre cose, Sala, Sala fa un po' la verginella, però Sala intanto era in rapporti con Letta, lo sapevano tutti, e con Gianni Letta, anche per il dovere istituzionale, non è una colpa, intendiamoci, il quale Letta poi compare copiosamente nelle intercettazioni, eccetera. Sala, chiedete le dimissioni di Sala, mi pare chiaro, no? Ma noi abbiamo chiesto le dimissioni praticamente di tutti i responsabili, qui la questione si basa anche su un'altra percezione, che la sinistra c'entri molto in questa storia, qui è stato arrestato, c'è dentro, prima volevo un pensiero chiaro su Sala, perché Sala fa scrivere ai giornali, ah ma insomma sono perplesso, eccetera, fossi lui farei dei sensi. Ma certo, ma queste sono persone che devono andare a casa, sono i principali responsabili di questo disastro, poi chi è stato arrestato, chi non è stato arrestato, ma qui quello che è evidente è che c'è stata una gestione irresponsabile, Sala, ma anche coloro che sono andati a fare la stilata lì, se fosse caduta da nulla questa questione avrebbero anche ragione ad essere perplessi, ma glielo stiamo dicendo da tre anni che questo metodo di gestione era folle. Veniamo alla sinistra per chiudere, appunto ha sollevato lei, ma ci volevo arrivare io, la sinistra, forse è la vera notizia di tutto questo, che la sinistra in tutta questa cosa cosa ha fatto? Ci ha mangiato, non ci ha mangiato, che ruolo ha? Questa è una sinistra in Italia col portafogli a destra, di sinistra ben poco, le abbiamo già viste in azione in questi anni, persone che dicono di stare dalla parte dei più debole, che poi votano la riforma Fornero, poi votano per le spese militari, li conosciamo, sono quelli di abbiamo una banca, sono quelli che hanno fatto operazioni con le cooperative rosse e hanno promosso il rasso delle cooperative rosse al Ministro del Lavoro, stanno con le cooperative rosse nella Tav in Val di Susa, nell'Expo e hanno enormi responsabilità nell'Expo. sappiamo bene quanto l'hanno sponsorizzato, quanto si sono fatti i promotori di questa operazione immobiliare e di cementificazione e alla fine hanno esclusivamente prodotto un risultato che è quello che abbiamo fatto. No, Bersani dice che sono cose millantate, sono cose millantate, millantano il mio nome, io non c'entro nulla, dice ho già fatto un po' di milano. Vabbè, questa era la stessa storia di Penati che poi ci ha dimostrato che era vero, queste sono le PMPS che vedremo, Monte dei Paschi di Siena come evolverà, la sinistra ha le mani in pasta nei più grandi scandali di questo paese ed è solo questione di tempo e verrà dimostrato. Noi parlavamo di Monte dei Paschi di Siena in tempi non sospetti, di Tav in Val di Susa in tempi non sospetti, poi alla fine escono fuori inchieste, escono fuori arresti nell'Expo. Noi a questo ingegnere che è stato arrestato gli abbiamo detto ma voi come fate in questo momento ad agire a lavorare con questa mole di cemento, a rispettare i tempi? Lì ci dissero che era tutto regolare e che noi eravamo degli sciacalli, quello è stato arrestato, ma che altro dobbiamo dire per dire che abbiamo ragione? Ed è una triste soddisfazione perché noi poi c'abbiamo, c'abbiamo a avere. Massania Marcolillo dice cosa centro io con le COP, non sono io. Ma come non sono io? Lui è stato segretario di un partito, del partito democratico, è stato segretario di quel partito che ha gli amministratori che stanno sostenendo l'Expo, fa parte di quel partito che ha mandato Enrico Letta a sostenere l'Expo, Renzi a sostenere l'Expo, qui c'entrano tutti, come c'entrano in Monte dei Paschi di Siena, come c'entrano nella Tav, qui ci sono responsabilità chiare ed evidenti, poi alcune sono penali, altre sono politiche, ma quelle politiche sono peggio di quelle penali, perché sono responsabilità che fanno disastri su larga scala per scelte politiche che sono principalmente di interesse e Bersani viene da quella regione dove le cooperative rosse imperano e tuttora gestiscono consensi e si aggiudicano a parti in tutta Italia nelle grandi opere. Va bene, dottor Di Maio noi le facciamo un bocca al lupo per la campagna elettorale.